Le società di quarta serie non sono rimaste impassibili di fronte alle sostanziali modifiche attuate al protocollo di serie D con relativa circolare chiarificatrice. Un intervento necessario da parte della Lega ma che ha scatenato non poche proteste. Il mondo dei dilettanti è composto da tante piccole realtà che spesso dividono il centesimo pur di garantire iscrizioni e prosecuzione della stagione. Ebbene c'è stata una missiva elaborata prima da cinque società di quarta serie che battevano su alcuni punti in particolare. Primo fra tutti l'aggravio dei costi dei tamponi obbligatori da addebitare alla stessa Lega Nazionale dilettanti oltre ad uno stanziamento di 50 mila euro per completare la stagione. La missiva in questione indirizzata dal presidente Sibilia e il ministro dello sport Spadafora ha fatto proseliti. Nel giro di qualche ora si sono accodate anche altre società fra cui l'Olimpia Agnonese che oggi è fra le firmatarie della stessa. Le società reclamano un confronto via Skype per ragionare sulle novità introdotte dal protocollo e sui costi relativi che certamente si incrementano rispetto alla scorsa stagione. Un confronto via Skype con i vertici federali. Le nuove adesioni alla missiva adesso hanno superato quota 30 società, il che lascia intendere chiaramente come le novità fra le quali i tamponi prepartito obbligatori siano sì condivisibili ma non da tutte sostenibili dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda invece il mondo dei comitati regionali va detto che in Puglia si è deliberato di consentire la ripresa degli allenamenti delle società il giorno successivo al 15 gennaio, giorno ultimo di vigore del nuovo DPCM del 3 dicembre scorso. Il suddetto comitato da quanto riportano le cronache dovrebbe prevedere due settimane di allenamenti ed il ritorno in campo la prima domenica di febbraio. Pare invece che il Veneto sia intenzionato a riprendere nello stesso periodo ma andando a giocare soltanto le gare del girone di andata. Un modello che sembra stia riscontrando delle adesioni anche in altre regioni d'Italia pur non essendo il massimo dal punto di vista squisitamente sportivo. Staremo a vedere quale sarà l'evoluzione del comitato Molise che ha ribadito più volte la ferma intenzione di tornare in campo ma a questo punto sembra inevitabile che lo si faccia in una data ancora imprecisata fra gennaio e febbraio prossimi.